Allora l'avviso che abbiamo dato all'inizio, l'avete nei fogliettini se l'avete ricevuto, che le catechesi qui al parco di treno finiscono oggi, però se qualcuno vuole proseguire ci saranno degli incontri domenica prossima alle ore 16 nella parrocchia di Sant'Agostino. Chi non ha ricevuto il fogliettino eventualmente venga qui, vediamo di dare qualche fogliettino. Ringraziamo il Signore veramente per questo tempo che ci ha dato, abbiamo visto anche il miracolo del tempo, tutti i giorni, tutti i sabati, tutte le domeniche ci siamo alzati con delle previsioni orribili, doveva piovere, anche oggi doveva piovere in maniera continuativa fino alle ore 20, ancora una volta il Signore ha aperto i cieli per noi, probabilmente li chiuderà appena faremo il canto finale, così ha fatto le altre volte, quindi ora ringraziamo e benediciamo il Signore con questo canto finale e poi Padre Umberto ci darà la benedizione a tutti quanti.